La garanzia viene dal fatto che tutto quel processo di controllo a monte che viene esercitato a livello dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per concedere la licenza e poi anche quello che viene fatto successivamente, valgono esattamente alla stessa maniera indipendentemente dalla provenienza del prodotto. Per cui diciamo se il dossier proviene dall'India, un dossier registrativo, poi bisognerebbe anche spendere due parole perché su questa questione dei prodotti provenienti dall'India o dalla Cina, bisogna distinguere se noi stiamo parlando del principio attivo, cioè se viene importata la materia prima piuttosto che l'intero farmaco come prodotto finito, perché l'India è produttrice di materia prima e peraltro hanno raggiunto nel corso del tempo un livello qualitativo invidiabile. Forse un po' meno dalla Cina, ma insomma anche loro stanno adeguandosi a degli standard occidentali ed in ogni caso quella attività di controllo di qualità che viene esercitata dall'Agenzia Italiana del Farmaco riguarda sia tutto il farmaco e tutta la filiera di produzione, per cui ci sono anche dei controlli attentissimi su chi produce il principio attivo, per esempio, devono essere tutti i materiali certificati e le officine produttrici di principio attivo, per esempio, che siano in India piuttosto che in Cina, non è che là stanno in una zona franca dove possono fare quello che vuole, perché gli ispettori europei e della FDA vanno fino a là a vedere, diciamo, l'officina come lavora, se ci sono dei livelli accettabili accettabili di qualità, di buona pratica di manifattura. Quindi da questo punto di vista siamo ampiamente garantiti dall'attività del servizio pubblico in Italia e in Europa. E poi vorrei aggiungere sempre su questa domanda, che non bisogna pensare che l'azienda che commercializza un farmaco brand, diciamo, l'originator, si produca tutto in casa. Molto spesso queste aziende, anche grossi, acquistano materia prima prodotta in India, prodotta in Cina. Qualche anno fa è successo che un'eparina a basso peso molecolare, una delle più note in Italia, quindi brevetto assolutamente brand originale eccetera, si approvvigiona dalla Cina di principio attivo, c'è stata una grossa partita inquinata da dei residui di fabbricazione che ha determinato il ritiro sul territorio italiano e europeo per un certo tempo di quei lotti di produzione. Questo, ripeto, riguardava un farmaco col suo brevetto, con l'azienda originator, non il farmaco equivalente. Quindi questo della produzione fuori sede è una cosa che riguarda tutti i farmaci, non solo quelli equivalenti.